Oggi sui social veniamo attaccati, associati a quello che è successo a Roma, a questa manifestazione dei Novax, dove dieci scalmanati hanno attaccato la sede della CGL. Noi con la violenza non abbiamo nulla a che fare, siamo persone per bene, siamo stati accusati di razzisti, fascisti, no, noi siamo persone per bene. E la gente lo ha dimostrato premiandoci a primo turno. Abbiamo parlato in questo mese di programmi, soprattutto con la gente, di quello che intendiamo fare per la nostra città, di quello che è la nostra visione per la nostra città, con sviluppo, sviluppo del turismo, sviluppo urbanistico soprattutto, con finalmente rimettere in mano a questo piano regolatore. Ecco, come diceva Giuseppe, noi abbiamo la fortuna di avere un sindaco a tempo pieno, un sindaco che sarà soprattutto presente, anzi da lui ho apprezzato anche il discorso che sarà presente anche una volta a settimana presso la delegazione di Tecchiena. E' una cosa molto importante per il nostro territorio, perché soprattutto le persone anziane non sono costrette ad arrivare per forza tardi, ma possono approfittare di parlare con il sindaco anche a Tecchiena. Ecco, io vi invito ad andare a votare. Ragazzi, manca veramente poco, manca poco per raggiungere questo risultato, quindi mi raccomando andiamo a votare, convincete anche il vostro vicino di casa ad andare a votare perché abbiamo la possibilità veramente di cambiare a latri. Grazie e buon voto. Grazie. Applausi.